buongiorno amici buongiorno amiche salutiamo paschi che ci ospita nel suo canale oggi video veloce per celebrare il regalo che ha fatto tomtom a tutti gli utenti android auto e non cioè ha regalato a tutti un anno di abbonamento a tomtom go e quindi la possibilità di scaricare le mappe di utilizzare gli autovelox e gli avvisi in tempo in tempo reale perché sono contento perché tomtom soprattutto negli anni 90 era la leader dei navigatori ancora è sicuramente uno dei player più più famosi e è un'applicazione a pagamento con abbonamenti mensili semestrali annuali anche abbastanza cari quindi averla finalmente in in omaggio è una buona è una buona cosa come si fa ad averla in omaggio vi metterò in descrizione il link si va nel sito della tomtom si simula l'acquisto di un abbonamento annuale si inserisce il codice sconto che io vi darò a quel punto sul sito della tomtom vi apparirà che avete acquistato in realtà non avete pagato niente un anno di abbonamento a quel punto scaricate l'applicazione andate sul pulsante recupera il tuo abbonamento una voce simile mettete la password e le mail del vostro account tomtom sul sito tomtom e anche l'applicazione vi vedrà questo abbonamento annuale è una bella cosa perché le mappe a quel punto sono mappe offline quindi non come maps che dovete utilizzare che si utilizza solamente quando c'è la connessione ma tomtom funziona sempre anche senza la connessione dati e come come vi dicevo lo potete visualizzare anche sul display di android auto cosa che non è possibile se avete una delle versioni tomtom curate tra virgolette dove è impossibile avere poi la visione del tomtom sul display di android auto e quindi poco a poco serve quindi avrete il re dei navigatori come brand con le mappe offline con gli autovelox con gli avvisi del traffico tutto gratis per un anno ho fatto questo video così veloce per celebrare questo regalo che ha fatto tomtom e soprattutto metterò in descrizione la procedura per attivare questo regalo che ha fatto a tutti tomtom direi vedete come si integra perfettamente con con i nostri con i nostri android auto io poi come vedete qui ho anche altri navigatori o maps chiaramente poi maps vi ricordo che almeno se non se non mi sbaglio non ha le ma le mappe offline quindi serve la connessione poi abbiamo lo dico perché io non lo uso molto io di solito usavo tomtom amigo adesso forse neanche lo scaricato perché ho fatto da poco un reset del cellulare tomtom amigo è il navigatore gratuito della tomtom per android auto ma non ha le mappe offline e mi pare anche meglio fatto questo qui tomtom gobl di tomtom amigo però vi consiglio anche tomtom amigo è sicuramente un buon un buon prodotto io ecco era solo un video veloce per per salutarvi per mettervi in descrizione la procedura vi saluto tutti ci vediamo un prossimo video